buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv siamo pronti per fare una piccola rassegna su quello che pubblicano i giornali per vedere che cosa è accaduto durante il weekend sono state tante manifestazioni con grandi presenze dappertutto quindi la gente ha avuto solo l'imbarazzo della scelta allora procediamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo il santo di oggi è sant'agostino di canterbury visse nel sesto secolo fu tra i monaci inviati da papa un papa importante gregorio magno in inghilterra per evangelizzare i bretoni i bretoni che avevano cacciato i sassoni gli angli e i popoli germanici che erano pagani ebbene la loro opera fu così fruttuosa che convertirono anche il re del kent e l'elberto il più potente della etarchia insomma l'insieme dei regni che in quel momento in cui in quel momento si divideva l'inghilterra nel 1597 pensate 10.000 persone furono battezzate nel tamigi ebbene agostino nella sua vita fu vescovo di arles in francia e metropolita di inghilterra e fu favorito di molti molti miracoli questo è sant'agostino di canterbury e vediamo ora le previsioni del tempo oggi vi do una buona notizia c'è tempo buono su tutte le marche condizioni anticicloniche hanno determinato tempo stabile e in prevalenza in prevalenza solleggiato la temperatura in lieve aumento 12 la minima 25 la massima i venti sulle coste espireranno con una tensione media da sud e sud est mentre nell'interno da con una tensione sempre debole da ovest e sud ovest e il mare è calmo vediamo un attimo come descrivono i giornali gli effetti del vento sul mare onde con creste che cominciano a rompersi con schiuma di aspetto vitreo si notano anche pecorelle con la cresta bianca di schiuma questa è un po una descrizione un po così poetica diciamo più che scientifica delle condizioni del mare e vediamo anche il sole il sole è sorto questa mattina alle 5 31 e tramonterà alle 20 e 37 e ciò detto possiamo dare subito un'occhiata ai giornali abbiamo qui davanti la nostra scrivania sulla nostra scrivania e la prima pagina del resto del carlino con la sintesi delle notizie che appaiono sulle cinque province marchigiane vediamo subito quella di pesaro il cantiere navale apre le porte alla città tutti in fila per vedere gli yacht e sono degli yacht che hanno destato molta molta curiosità in modo particolare quello di valentino valentino rossi e poi c'è ancora problemi sono ancora problemi nel palazzo di aimonino in via mazza pesaro un palazzo che è significativo dal punto di vista dell'architettura ma ha creato tanti tanti problemi per la sua disponibilità mentre a fano abbiamo un fatto di cronaca eccolo qua nell'articolo presi i predoni di gomme e cerchi delle alfa sono stati sorpresi dalla polizia mentre si dirigevano verso il casello dell'autostrada vediamo in ancona in ancona si gira un film con pieraccioni e un set all'ascensore e il locale dell'ascensore che quando gli è arrivata la telefonata dicendo possiamo girare alcune scene del film nel vostro locale hanno aperto le porte ha detto lo facciamo anche gratis perché è una grande promozione per tutta la città ma vediamo poi i problemi colle marino poliambulatorio raccolta di firme contro la chiusura due quartieri si stanno mobilitando mobilitando per cercare più adesioni e poi per quanto riguarda l'incursione di ragazzi minorenni nel ex asilo ci sono stati i vigili che hanno identificato alcuni giovani ebbene questi ragazzi che sono un po spavaldi un po troppo spavaldi che penetrano nei locali pubblici magari facendo anche qualche danno costituiscono un vero e proprio problema in tutte le località nella provincia di ascoli e fermo i carabinieri hanno invitato alla cautela per quanto riguarda le truffe che sembra furoreggiano nel web vendite online fasulle e carte clonate tre le denunce una città a due ruote la ciclabile dalla stazione alla zona industriale è una delle infrastrutture che verrà presto inaugurato e poi si parla anche del concerto di allevi che bellezza la mia terra è il grande pianista è tornato sulla breccia e quindi si mostra ancora al suo pubblico teatro dell'aquila a fermo concorso violinistico e di singapore il piccolo vincitore e vediamo anche la provincia di macerata purtroppo lo sfogo di una mamma mia figlia disabile non può andare in gita doveva andare a parigi ma non si sa il perché ebbene serve un'assistenza particolare che purtroppo il comune non garantisce tolentino nuovi itinerari e app max investimento sul ciclo turismo inizia un po' in tutta la regione la buona stagione tutte le manifestazioni che dovrebbero correre dalla stagione estiva a Civitanova a Civitanova la movida troppo molesta il prefetto chiede una stretta per quanto riguarda l'applicazione di certe regole ed ora apriamo il giornale e parliamo subito di quello che accade a Pensolo a palazzo a Imonino dove vediamo qui una fotografia piuttosto importante piuttosto grande e la presidente di Erap Marche di Ruscio dice siamo in ritardo nel consegnare 34 alloggi è vero sono pronti ma alla fine si è scoperto che manca ancora qualcosa al momento il cantiere è abbandonato e ci vorranno ancora due forse anche tre mesi per consegnare gli appartamenti agli affittuari e manca la domotica ovvero il collegamento della centralina con i pannelli solari mi dicono che in un paio di mesi si finisca il tutto comunque palazzo a Imonino tutto vuoto tutto sbarrato 34 appartamenti dell'Erap sono apparentemente pronti sono stati costruiti con 3 milioni di euro ma il cantiere non è ancora terminato e ne ci sono ancora i collaudi manca ancora quest'ultimo intervento e finché non è stato fatto ancora gli affittuari dovranno aspettare e restare nelle loro abitazioni che ovviamente non sono in grande stato se hanno avuto la concessione degli appartamenti delle case popolari Open Day, Open Day al cantiere navale Rossini a Pesaro ebbene il cantiere ha aperto le sue porte e ha fatto entrare il pubblico il quale ha ammirato i grandi yacht in costruzione e questo avvicina sempre di più la popolazione, la cittadinanza alla cantieristica che è una risorsa economica di grande importanza lo è a Pesaro, quanto lo è a Fano, quanto lo è insomma in tutte le marche non parliamo poi del cantiere di Ancona che è il massimo che esprime l'Adriatico Open Day al cantiere navale Rossini, tutto in fila per vedere gli yacht poi si cambierà musica, addirittura in questi cantieri verranno realizzati dei concerti e sono già in programma due concerti, il primo di quale si terrà il 16 luglio sarà un grande concerto che verrà organizzato dall'Associazione Libera Musica che è un'organizzazione di livello europeo e che terrà per la prima volta la sua esibizione a Pesaro in occasione della Capitale e della Cultura e sono tanti i giovani che si esibiranno in questa situazione ma quello che ha destato più curiosità in questa visita sono stati gli yacht quelli dei grandi personaggi, i maxi yacht che costano veramente fior di milioni ebbene, tanti pesaresi, ha detto Alfonso Pastorino che è un po' il direttore di tutto quanto ebbene dice, tanti pesaresi ma anche persone appassionate di nautica sono venuti dalla miglia del Veneto, coppie da Bologna addirittura per visitare il cantiere sono stati meravigliati in modo particolare dallo yacht di Valentino Rossi ed anche su un panfilo di 55 metri che è arrivato da noi provenienti dall'altra parte dell'Adriatico ovvero dalla Jugoslavia e che fra qualche giorno prenderà il mare facendo rotta verso Venezia dove andrà ad imbarcare l'armatore chi è quest'armatore? Chi è quest'armatore? Non si dice, non lo sappiamo ha 12 membri di equipaggio e l'unica cosa certa, vista che sono tutti stranieri è che il cuoco è un italiano, almeno abbiamo una nostra rappresentante comunque una yacht di 55 metri è veramente un gigante del mare e passarci una vacanza, passarci una navigazione, una crociera sarebbe una cosa veramente molto bella che solo pochi possono permettersi vediamo ancora la notizia che viene da Fano presi i predoni delle Alfa avevano smontato quattro gomme con i cerchi di una lussuosa Stelvio eccola la Stelvio, con questa carrozzeria color d'oro, color bronzo possiamo dire che era ferma a Sant'Orso, l'auto era parcheggiata nel quartiere di Sant'Orso i malviventi di notte cosa hanno fatto? hanno smontato le ruote e i cerchioni e hanno messo l'auto su dei mattoni per fortuna, non so se casualmente oppure qualcosa deve essere scattato in una pattuglia che era in servizio, la quale forse con grande acume ha notato che qualcosa non andava in una macchina che si dirigeva verso il casello dell'autostrada l'hanno fermata, l'hanno bloccata, la macchina poi invece è fungita e c'è stato tutto un inseguimento, era una Opel Astra che ha continuato la sua marcia cercando la fuga verso Bellocchi qui è stata intercettata dalla volante della polizia che in qualche modo è riuscita a tagliare la strada ai fuggiaschi i quali poi cosa hanno fatto? hanno bloccato la vettura, sono scesi dalla macchina e sono fuggiti a piedi uno si è deleguato, l'altro ha cercato di nascondersi dietro un cespuglio, una siepe però è stato rintracciato e quindi è stato fermato dalla polizia dopo le formalità la refurtiva, cioè le ruote e i cerchioni sono stati riconsegnati al proprietario il quale veramente è rimasto allibito nel vedere la sua Stelvio questa bella, bella macchina costosa appoggiata su dei mattoni e beh, questo è accaduto l'altra notizia invece importante a cui il Corriere Adriatico poi lo vediamo, dedica l'apertura è una presa di posizione di un comitato che si è formato proprio recentemente è una novità, si tratta del Comitato Aria Pulita il suo obiettivo è quello di fermare il progetto del polo logistico dell'ex zuccherificio è un comitato tra i cui promotori c'è anche Agnese Giacomoni l'ex capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale capogruppo che si è dimessa per proteste appunto perché il suo partito aveva approvato questo progetto inserendolo nel piano regolatore e quindi Giacomoni probabilmente non so se ancora farà parte del Partito Democratico questo ancora non ve lo so dire però questa sera cappeggerà in una riunione che viene organizzata nel Salone Parocchiale di San Lanzaro questo comitato il quale parlerà dei suoi obiettivi, dei suoi intenti soprattutto per difendere la situazione ambientale della zona industriale di Ponte Metauro lì c'è una zona industriale che però è stata frammista a delle abitazioni ebbene il comitato si prefigge di salvare, di tutelare l'ambiente che ancora rimane abbastanza integro in quella zona nonostante gli scheletri che sono stati realizzati nella zona dell'ex zuccherificio ebbene aumento del traffico è quello che si vuole scongiurare perché poi un polo logistico potrebbe attrarre un traffico molto intenso per i camion che portano e trasportano le merci e poi vediamo come il Corriere Adriatico parla di questa notizia perché la estende appunto in una apertura eccolo qua piano regolatore, impatto irreversibile sulla città scende in campo il gruppo aria pulita stasera incontro a San Lanzaro per spiegare i motivi della protesta polo logistico da eliminare ebbene sono quattro le conseguenze negative secondo il comitato che determinano questo impatto la prima è un aumento del traffico di cui abbiamo detto la seconda è un peggioramento della qualità dell'aria un degrado dei quartieri limitrofi un aumento dei rischi per la salute dei residenti e poi la terza è un grave colpo all'economia turistica infatti dice il comitato chi vorrebbe venire in una città di mare il cui litorale è assediato da una zona industriale in potenziale espansione e poi la quarta l'abbandono del progetto di un parco naturale naturalistico del Metauro insomma queste sono un po' le conseguenze che secondo il comitato determinerebbe il polo logistico da questo punto possiamo vedere anche le notizie che continuano a essere pubblicate sul Corriere Adriatico a fondo pagina abbiamo la notizia di cronaca sui malviventi che hanno rubato le ruote della Stelvio mentre la seconda pagina si apre con il resoconto di una delle più belle iniziative che organizza l'amministrazione comunale come introduzione della stagione estiva l'Adriatica strada delle meraviglie città da giocare animata da 50 enti la manifestazione ha compiuto 30 anni riconquistata dai bambini anche l'area ex Agip sì perché per la prima volta ieri l'area ex Agip dove è stato realizzato un parchetto ha ospitato il primo evento cioè l'esibizione dei bambini del circolo didattico di San Lazzaro che hanno partecipato alla città da giocare e questa è forse stata una delle novità più importanti perché poi la città deve imparare a così a frequentare questa zona a impossessarsi di questo parco nonostante che ancora ci siano delle rimostranze perché onestamente lì qualcuno o qualcuno molti avrebbero voluto dei parcheggi piuttosto che il parco stesso ebbene però ha compiuto 30 anni questa manifestazione la città da giocare ma sono 30 anni che non vengono sembra che non li dimostri perché c'è sempre uno spirito nuovo una volontà di rendere la città più a misura di bambino e ieri 50 associazioni hanno proposto ai bambini tante tante occasioni per giocare tante opportunità e sono state veramente molto varie i bambini si sono divertiti anzi non sapevano cosa scegliere perché per correre tutto il viale avrebbero avuto mille mille occasioni qualche novità la carnevalesca per esempio ha proposto un piccolo concorso con dei matoncini Lego per costruire dei progetti di carri allegorici ebbene i vincitori poi saranno premiati con tre biglietti per salire in tribuna nel prossimo corso mascherato e poi ancora la combattente la combattente ha organizzato delle partite a scacchi a cui hanno partecipato dei bambini piccolissimi ma con una conoscenza del regolamento del gioco degli scacchi molto molto provetta e quindi sono veramente dei piccoli geni che già si destreggiano con le mosse e con la strategia delle partite a scacchi e poi come non rimanere così estasiati dai clown i clown dottori, i clown di Apito, i clown di Senigallia, di Ciofega hanno veramente stregato i bambini e poi ancora l'esibizione di Arfon Fong la polizia locale con i circuiti in bicicletta veramente c'è stato un pomeriggio da fiaba per tanti tanti bambini e poi si parla anche di fuoriclasse di questa manifestazione che da oggi proporrà alla città le esibizioni teatrali degli allievi delle scuole degli studenti delle scuole gli studenti diventano attori due serate di spettacoli in teatro per il ventennale Bartolucci, grande crescita beh, il Bartolucci è un grande attore locale che si è dedicato anche all'organizzazione di questa bella manifestazione Fabrizio Bartolucci siamo ormai vicini alla conclusione vediamo San Costanzo discarica il muro dei candidati uniti contro l'ampliamento i candidati sindaco Volpe, Carbone e Bruscia dicono no all'ampliamento della discarica di Monte Schiantello che è a due passi è in comune di Fano ma che è in due passi dal loro comune intanto a Mondolfo l'itinerario roveresco è stato presentato una bella iniziativa dell'Archeoclub in collaborazione con l'Istituto Fermi vediamo anche la pagina di Senigallia dove c'è un aumento del costo dei parcheggi a pagamento però il comune prevede meno incassi dal 15 giugno si paga sul lungomare gli scambiatori costano di più la stima un calo di introiti per 150.000 euro da 1.350.000 si passa a 1.200.000 e questa era l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che augurarvi un buon inizio settimana e quindi noi ci risenteremo domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti grazie a tutti